Ad accogliere Matteo Salvini è stato il commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti, insieme ad altri esponenti del partito. È stato un grande successo, ha commentato riferendosi all'ultima tornata elettorale, è il miglior risultato della Lega a livello nazionale, pur senza aver espresso il candidato governatore. L'importante era vincere su quella prospettiva che abbiamo dato a questa straordinaria regione da qua ai prossimi 10-15 anni e iniziare a lavorare per il territorio, perché il lavoro vero inizia adesso. Quindi l'importante era quello, poi inizieremo a ragionare ora su chi sarà la squadra di governo che andrà a governare questa straordinaria regione anche in quota Lega, dando priorità sicuramente al consenso personale, quindi alla delega ricevuta dal territorio da parte dei cittadini, ai curricula e alla rappresentanza dei vari tessuti imprenditoriali che ci sono nel territorio marchigiano. E tra i papabili rientra Mirko Carloni, il più votato del partito di Salvini nelle Marche, con oltre 6.800 preferenze. Per Carloni, già consigliere di opposizione nell'ultima legislatura, c'è chi ipotizza anche il ruolo di presidente del Consiglio regionale. Carloni, il primo consigliere eletto ad essere arrivato questa mattina, un momento importante, un incontro con Salvini. Beh, intanto la puntualità è molto importante. Abbiamo tutti quanti noi la soddisfazione del risultato, ma sentiamo anche la responsabilità del risultato, perché anche per strada la gente ci comincia a dire ragazzi vi aspettiamo al Varco e vogliamo da voi un cambiamento vero, che sia nei fatti, che sia nelle scelte, che sia nelle cose che farete. Quindi dobbiamo lavorare da subito, non ci siamo riposati neanche un giorno e oggi è un momento molto importante perché viene Salvini e la trattativa con gli altri partiti la sta gestendo ovviamente direttamente lui tramite l'onorevole Riccardo Marchetti e è un momento importante e delicato dove si consumano anche i riti istituzionali che ci sono in queste fasi di composizione dell'organo di governo e poi delle altre cose, perché poi prima si parte e meglio è. Altro fanese eletto nelle fila della Lega è Luca Serfilippi, che ha ottenuto più di 3.300 voti. Oggi ha confermato la volontà di mantenere anche il ruolo di consigliere comunale, senza percepire il compenso, non essendoci un'incompatibilità tra le due cariche. È andata molto bene, queste giornate ancora sto continuando a lavorare, quindi sono molto molto impegnative, mi scuso con chi non riesco a rispondere, ma ho migliaia di messaggi. Detto questo, oggi il nostro segretario federale ci ha ringraziato tutti, sia gli eletti che i non eletti. Abbiamo fatto un gran lavoro di squadra che dovremo continuare, perché da oggi dobbiamo andare veramente a governare e quindi cambiare radicalmente la nostra regione Marche. Per me, che sono uno dei più giovani, forse il più giovane eletto in consiglio regionale insieme a un altro di Fratelli d'Italia, ha una responsabilità maggiore, perché veramente tanti ragazzi, tanti giovani mi hanno chiesto risposte concrete. Quindi oggi più che mai sento il peso di questa responsabilità, continuerò come sempre il mio impegno sia in regione che in comune, perché credo che debbano cambiare molti meccanismi, dobbiamo fare squadra tutti insieme perché abbiamo una coesione unica per rilanciare la nostra regione Marche, in particolar modo la nostra provincia di Pesururbino, dalla costa all'entroterra.